Ok, sono qui fuori, stiamo per fare due chiacchiere con... Braccarli. Stiamo per braccare Cave e Giuseppe. Le persone si fanno filmare le mani. Giuseppe, Giuseppe. Ciao, ciao. Oh no, aspetta, lo dobbiamo fare. Solo un'ambressata. Qual è la canzone che ti gasa di più quando la suoni con l'ingale? Ma devo mettere senza vergogna Happy Hour. Oh, grande. Ok, siamo a posto. Grazie Cave. Grazie, gentilissimo. Un dieci. Ciao Cave. Vai. No, più figo, mi fa. Ciao, gentilissimo. Mi sono innamorata. Come, di lui? Sì. No, no, ma smettila. È vero.